Noi oggi cercheremo di valutare gli indirizzi politici del segretario sulle questioni di merito, questa è la cosa più importante. Ho già detto che se sulle questioni di merito si troverà coincidenza con le tesi della nostra mozione congressuale, la nostra collaborazione su questi punti condivisi sarà piena e totale, a prescindere da qualunque tipo di accordo di sistema che comunque non ci sarà, perché noi stiamo concentrando la nostra attenzione sulle questioni di programma. Quindi innanzitutto la riforma della scuola che deve essere radicalmente ribaltata e ricostruita col dialogo con il mondo della scuola, con le famiglie. In secondo luogo la web tax, che deve servire ad abbattere il cuneo fiscale sulle retribuzioni più basse, rimettendo in busta paga 4 mila euro almeno per i redditi sotto i 15 mila euro e attuando una decontribuzione al regime, quindi non più bonus da 80 euro ma decontribuzione al regime. L'altra questione è legge elettorale, che deve avere un premio di coalizione, dobbiamo ricostruire il centro-sinistra, se non si riesce a fare ovviamente il mattarellum maggioritario, e soprattutto eliminazione dei capi lista. E ovviamente noi ci auguriamo soprattutto che il PD sia attivo nel contrasto della povertà. Lo dico chiaramente, noi in Puglia abbiamo fatto un'esperienza positiva di reddito di dignità e ci auguriamo che il PD torni a essere il partito che sta dalla parte dei più deboli. Su queste questioni valuteremo la relazione del segretario, sperando inoltre che la indicazione del Presidente dell'Assemblea sia un'indicazione condivisa che rappresenti tutto il partito. Noi non abbiamo e non facciamo questioni di nomi, ma speriamo che ci sia una larga condivisione, che quindi la maggioranza si comporti esattamente come l'altra volta, indicando nominativi che rappresentino l'unità del partito.